unga bunga lunga 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 che che fa la inga bunga lunga lunga che è ecco quello che ho detto io non ho capito che è successo ma non è vero appare perché hai cliccato la macchinetta ma che l'arma è comparsa perché tu hai fatto unga bunga younga bunga ma no c'era la macchinetta ed eccomi qua mi stavo aspettando per caso ma hai visto che gino e gg hanno una nuova sedia tutta sgangatellata perché perché diego si è preso la nuova sedia della sharkun ragazzi veramente è un altro mondo che sedia ha lei invece la sharkuf che marca è scusi? la sharkun ma come allora ragazzi come si trova? io mi trovo troppo bene perché quella andava all'indietro e non rimaneva ferma invece questa una volta posizionata ragazzi guardate l'ergonomia è pazzesca e poi naturalmente uno ci può vedere i film tranquillamente che arriva fino in fondo ma la cosa più comoda ragazzi sono questi foggia braccio braccioli perché veramente si possono abbassare alzare spostare di lato ma anche spostare in avanti cioè è perfetta come si trova lei con la sharkun come sedia? eh con la sharkun bene bene ci vedo in serie tv su netflix su che? netflix! netflix! e che ho detto io? netflix! è un pazzo comunque ragazzi se volete acquistarla dovrete il link in descrizione perché è veramente stupendo ma di questo colore ma attenzione al raggiungimento di 200.000 iscritti ci sarà un contest di questa sedia uno di voi la vincerà lei no perché l'ha già che l'ha ragazzi ci siamo me ne sto per pentire me ne pentirò lo so già che me ne pentirò di questa cosa come avrete eh 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 va bene come avrete visto nell'intro eh sono tornati sono tornati sono tornati perché allora allora signor Alfonso no? Alfonso si 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 ma quanti anni ha lei ricordiamolo quanti anni ha 42 42 anni e il fratello Giuseppe quello quanti ne ha? 8 perfetto allora facciamo un provino ok se si riesce a fare almeno 3 kill 3 kill non sono tante ok? eh 3 kill è facilissimo le fatte più chiusi va bene va bene ok allora quant'è il tuo record? quant'è il tuo record? il mio è 35 ma cosa? ma che ha febbre che è? eh non chiedi che è? che 35 va bene ma lei è democraal chi ti ha allenato? mongral 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 no mongral 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 no mongral quello è australiano come? oddio raga ce la posso fare raga allora insieme a chi ti ha allenato insieme a chi era tfu no? tfu si tfu no tfu no no tfu quello giapponese cinese non giapponese cinese tfu ma ero quello dei nandesi io che ho detto? va bene va bene ok andiamo forza il grandissimo gruppo dei fuzzer dei fuzzer che sono i fuzzer? i fuzzer i fuzzer non l'ho mai sentito i fuzzer non l'ho mai sentito i fuzzer i fuzzer i fuzzer i fuzzer i fuzzer che ho detto io? i fuzzer raga mi prego aiutatemi allora forza signor alfonso ci faccia vedere l'insegnamento di mongral forza siamo tutti con lei guarda quello guarda quello oh oh ma lei che mira hai visto? hai visto? che mira ragazzi incredibile chi ha insegnato? veramente tutto grazie a mongral ah perchè tu stai nei fuzzer naturalmente no? chiaramente sei nei fuzzer nei fuzzer nei fuzzer ma lei che armi ha il pompa e il coso? allora 3 kill eh? 3 kill eh? mi raccomando forza e coraggio eh questo ha jumpato è scappato ha avuto paura dei fuzzer i fuzzer sono un clan hai visto eh? eh ho visto che si chiaramente ho visto troppo forti i fuzzer no? tu fuma e mi ha insegnato tante belle cose vai 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 che è? cos'è questo? ma non ha senso non dire bagianate si 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 guarda sto spiegando materiali va bene va bene vai forza è fortissimo si è fortissimo è headshot l'hai preso grandissimo sempre player forza vado a pushare qualcuno sta nei fuzzer e non pusha nessuno forza e coraggio questa è sempre oh l'hai visto? ma signor ma cosa si ma 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 che dove? no ma questo non vale però perchè non vale forza perchè non ma perchè questo usa le hack? ma non è vero che usa le hack no 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 l'hai visto? cioè no non c'era è proprio ucciso al passo che l'ho visto cioè c'è l'hack del dell'issa dell'invisibilità forza suo fratello adesso suo fratello adesso suo fratello non voglio discussioni suo fratello allora suo fratello è una pippa ok che ha 42 anni i riflessi sono oh ma lui è più forte quanti anni hai te? ricordiamolo io ho 8 si ok 50 anni fa prima di iniziare mi raccomando codice creatore forza vediamo se hai informato ehm 10 abusivo no trattino abusivo trattino abusivo Diego trattino abusivo perché ragazzi perché se lo utilizzate fatemelo sapere con un video mentre shoppate su instagram perché a fine mese estrarò due di voi che l'hanno utilizzato e vinceranno queste skin rarissime offerte dalle iconiche per vedere che i miei contest sono tutti veri perché penso di essere uno dei pochi che li fa reali troverete tutto nelle storie in evidenza tutti i contest precedenti qualche giorno fa ho estratto una skin da 60 euro a uno di voi e ragazzi è stato felicissimo contentissimo e sono contento di fare queste cose detto ciò andiamo forza e coraggio adesso ricordiamo forza lei da chi è stato allenato? da chi è stato allenato lei? io è Pover da chi? da Pover da Pover chi è Pover? è Pover è quello che fa nel stream Pover ma italiano? no? eh sì 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 è Pover POWER ecco detto è Pover Pover quindi lei è nei fanatic no? è nei fatanic sì chi sono i fatanic fanatic ecco detto io fatanic raga aiutatemi io li ho preso i miei canali questi allora forza e coraggio quindi lei è allenata Power e lei è dentro i fanatic non ci credono neanche non ci credono neanche non ci credono neanche i miei iscritti quante kill è il tuo record? ciao mamma stai sugli rub eh? quanto è il tuo record? stavo saluto mamma quanto è il tuo record? eh 42 ma che? l'anni? gli anni no 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 quali gli anni? 18 anni c'è qualcosa 42 cosa? kill? 42 kill insomma versus squad versus squad? i quad versus i quad questi qua questi verso il quad lei ha killato i quad vabbè 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 io devo morire insomma ma no come al solito bunga 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 che fa la inga bunga bunga lunga? che? eh come avevo detto io non ho capito che è successo? bunga 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 vedi? appare l'arma ma non è vero appare perché hai cliccato la macchinetta ma che? no no assolutamente lo dico io cioè ho sbriato allora lei questi sono i miei segniati di Power allora in poche parole l'arma è comparsa perché tu hai fatto bunga bunga iunga bunga certo ma no c'era la macchinetta fammi vedere tanti gradi Power prima le dovi un po' le guida no? lui sta qua dentro no stai qua dentro e ora c'è è troppo forte è troppo forte si va bene ha killato uno che stava fermo però è troppo forte ok tattiche questo ha sempre insegnamenti i power ovvio 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 Cosa sta facendo? No Cosa sta Non lo so, io non lo so Io lo faccio per povere, guarda Questa è la tattica Si fa così? Per power lo fai Non a caso sta nei fanatic, no? Idiota Oh! Non a caso sta nei fanatic Giustamente Ok, lo fai per povere? Sta pushando? Certo Ma non c'è più Si sta facendo il falò, si sta facendo il falò Lo sai che perde vita? Non so, che si sta facendo Le compie Oh, per power Per power Ce l'ha quasi fatta, per power Per power Perché? Perché utilizza solo la pistoletta? Ecco perché Mi ha il settantuna in testa Mamma mia Sono fortissima Sono applausi, raga Non ci credo, raga Non ci credo Quello che ho appena visto Raga, che ho appena visto Settantuna in testa Una bestia Sono fortissima Ma sei Grazie Sei un fanatic Facci vedere Ma, ma Sei accorto che Ma che cos'è? Con la mitraglietta? Ma cosa sta? Questo è un pazzo Questo è un pro player Bro Guarda Guarda come muore Oh No, ma no Hai la mira di power Hai la mira di power Si, 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 si Non è male di questo Pure lui è power Pure lui è power Pure lui è power Fili Hai clicciato Usa un shit Usa un shit No, pure lui è power Vedi? Vedi? No, 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 no Usa un shit Però questo Fili Lo dico io Come non vale La sp... Ma 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 la sp... Sotto terra Fili No, no, lo dico io La sp... Sotto terra Allora, quante kill ha fatto lei? Tre È entrato È entrato Erano tre kill È entrato Nel team Ma lei non sta dentro i... Ma lei non sta dentro i... Io sono i Fatalic Quindi Che l'hai fatta a fare? Allora, è entrato fratello È entrato fratello Ma non sta nei Fades Su fratello Eh sì Però lui è troppo forte per i Fades Comunque Prima di lasciarci ragazzi Io voglio Che il signore Alfonso Che ormai ha 42 anni Quindi è una persona Molto esperta Molto matura Vissuta Dio un messaggio ai miei iscritti Che magari sono un po' scarsi E vogliono migliorare E diventare forte come lui Forza e coraggio Il signore anche l'Istabildi Quello va sotto terra Capito No Che poi salga all'improvviso Ma non esiste Non può È un hack Non è Ragazzi Ci vediamo al prossimo video 5.000 like Basta Ciao Mi fate impazzire 20 minuti di registrazione E io divento pazzo Basta Basta Basta